Siamo nel sud Tirolo italiano, estremo nord-est dell'Italia, è un'area famosa per la produzione alimentare, soprattutto in quest'area speck. Noi oggi siamo il secondo produttore di speck nel mondo, stiamo producendo circa 4.000 pezzi al giorno e eravamo i primi con l'export fino in America. La famiglia Recla che vive qui da molti anni aveva questa produzione e ha deciso di investire, di raddoppiare, più che raddoppiare la produzione dato l'aumento del mercato, rimanendo però in quest'area. Quest'area da un punto di vista industriale ha qualche problema di rifornimento di energia, in particolare energia elettrica. La nostra vita si trova in una valle, tanto lontano da paesi grossi, da città, quindi ci dà problemi che la corrente costa veramente tanto, solo perché noi siamo quasi gli unici grandi partecipanti che usano la corrente della valle. In questo sito abbiamo installato una macchina da Capstone C1000, da 2 megawatt. L'abbiamo installata a luglio del 2010. All'inizio ha cominciato a produrre solo energia elettrica per motivi di necessità di energia elettrica. Dopo circa sei mesi il sistema è stato completato con la cogenerazione, recuperando l'energia termica dagli esausti, producendo vapore, acqua e acqua calda, recuperando praticamente più dell'80% dell'energia contenuta nel gas naturale. Noi della corrente usiamo la gran parte, la usiamo per refrigerare. Per esempio noi in tutto usiamo circa i 5 megawatt. Con l'impianto di recupero calore produciamo soprattutto acqua calda per i nostri impianti di lavaggio. Vicino a questo usiamo anche il vapore per i nostri forni di cottura, di altri prodotti. Uno dei plus di questi sistemi che il cliente ha apprezzato molto sono le emissioni in atmosfera molto ridotti, il risparmio di energie decarbonica, circa 1000 tonnellate all'anno equivalenti di energie decarbonica e un risparmio di energia primaria di circa 350 TEP all'anno. Sì, la turbina per me stesso è una macchina buona perché io sono tra l'alto, sono responsabile per la manutenzione. Per me la turbina non mi dà tanto lavoro, quindi è buona. Sì, fino ad oggi siamo veramente soddisfatti dalla turbina Capstone 5000.